Musica Io sono Carmelo Guastella, sono di Ragusa e qui ci troviamo a circa 20 km a sud di Ragusa. La mia azienda è di circa 38 ettari, questi 38 ettari le faccio per metà, le semino per uso foragente, le semino un mescuglio retticale, grano tenero, vecchia, avena e loietto. Se piove una parte lo faccio in zelato e l'altra a fiena. Ho una stalla di circa 35 vacche in mongitura, razza fresona. La mia è una azienda molto produttiva, con produzione che vanno dai 35 all'estate, che poi in inverno arriviamo anche a fare 45 per litro di medici. Il rapporto con Tecnozoo è nato che un giorno è venuta Valentina, la gente di zona, e io avevo il problema che aveva Bartolino, le vacche con troppo edema. E ho detto a lei se mi potevano risolvere questo problema. Lei mi ha detto la prossima settimana viene Cristiano Ossenze, il tecnico del Tecnozoo. Dopo una settimana è ritornata assieme a Cristiano Ossenze e lui è riuscito a farmi pasturire le vacche senza edema. E da lì è cominciato il nostro rapporto. E da quando c'è Cristiano io ho avuto un continuo miglioramento nella mia azienda. Cristiano è riuscito a togliere il freno a mano alle mie vacche. Sono finite le zoppie e sono otto anni che io non faccio pareggio nelle vacche. Le performance delle mie vacche sono dovute, a parte alla genetica, ma anche alla sua bravura ad impostarmi la razione. Io di Tecnozoo uso tre prodotti. Uso oligomit, premix, agegon 4 e estieco. I risultati sono ottime perché vedo che le vacche producono, stanno bene, non hanno problemi. La cosa più bella di una stalla di vacche di latte è andare in sala mungitura e vedere che ci sono delle vacche che riescono a fare anche 75 litri di latte al giorno. E io qui ce ne ho diverse di queste vacche. Grazie.